L'asla di Teramo si prepara a fronteggiare la quarta ondata Covid prevedendo un ulteriore hub vaccinale oltre quello di Parco della Scienza. E se è vero che in provincia di Teramo i contagi aumentano, così come i ricoveri, nessun vaccinato è in terapia intensiva. Da qui l'appello ai cittadini da parte del direttore generale Maurizio Di Giosia a vaccinarsi tutti. Sotto terapia intensiva non vi è stato mai ricoverato un vaccinato nella terapia intensiva. E' ovvio che si sta verificando questo per quanto attiene i ricoveri, che all'inizio erano solo ricoveri di persone che non erano vaccinate. Oggi le cause sono tante, però il fatto che il vaccino perde un po' di efficacia e per questo la cittadinanza, i cittadini, vanno invitati a fare la terza dose. Questo determina anche una riduzione di protezione nei confronti vaccinati e anche coloro che hanno avuto il vaccino soprattutto nei primi mesi. Oggi rischiano di essere contagiati e per questo invito nuovamente tutti al vaccinarsi. Chi non l'ha fatto, soprattutto chi non l'ha fatto e soprattutto anche chi deve fare la terza dose. Ma non c'è solo l'emergenza Covid. L'Asla di Teramo ha accumulato oltre 40.000 prestazioni sanitarie in evase negli ultimi due anni. Queste liste d'attesa lunghissime hanno portato i vertici aziendali ad annunciare un immediato piano di recupero da oltre 2 milioni di euro per azzerare liste d'attesa e mobilità passiva. Intanto già da questa settimana è previsto il raddoppio delle sedute chirurgiche ortopediche per l'applicazione di protesi d'anca e ginocchio oltre a quelle dedicate ad ernie e colicisti. Patologie queste che maggiormente fanno emigrare i teramani verso altre asla di confine. Come liste d'attesa stiamo mettendo tutta una serie di iniziative volte al recupero del pregresso. Tanto è stato fatto ma tanto dobbiamo ancora fare. Dobbiamo mettere in campo tutte le forze e utilizzare tutti gli strumenti che ci consentono appunto di ridurre l'istate sia di quella ambulatoriale sia dei ricoveri sia degli interventi. Il manager di Giosia sottolinea infine la grave carenza di anestesisti. Mancano al momento 35 unità ma assicura che grazie a questo piano di recupero le liste di attesa dell'asla di Teramo saranno azzerate in meno di due anni.